Ragazzi abbiamo trovato un nuovo strano bug mistero di GDA4 Guardate, questo pedone ci vuole distruggere la macchina, guarda ci insegue Ragazzi è la driver 2, guarda come quando ci insegue la polizia, anzi come tutti i drag Guardate, ci vuole distruggere E allora l'attacco Ora vorrei vedere se uscì, se usciamo dalla macchina cosa succede Ah, è sceso pure la macchina Ci tocca picchiarlo Questo qua ci vuole attaccare, questo qua ci vuole attaccare ad auto eh Come ha già la vita quasi, sta quasi già per morire Sì perché secondo me l'abbiamo sbattuto insieme alla macchina No, non credo Perché di solito nel GDA non... quando vai a sbattere con la macchina è un bel giro Comunque abbiamo messo un po' di energia Dovremmo un po' procurarcela Dunque questo è stato un inseguimento di un piccolo inseguimento Di quest'uomo che ci voleva assalire con la sua auto Bene, questo è un video veramente corto Ma anche un po' molto curioso Ok Un saluto da Fatakiller.2 E da Friendroots